L'arte della pizza di Franco Pepe sposa un'iniziativa nobile e salubre. Parliamo del progetto Pepe in Grani, pizza mediterranea, che si pone l'obiettivo di sdoganare l'alimento dall'idea che la vede come uno strappo alla regola e non come una pietanza sana ed equilibrata in ogni suo valore nutrizionale. Ed oggi Franco Pepe, artigiano della pizza e titolare di Pepe in Grani, e è proprio qui con noi a raccontarci di questo progetto. Buongiorno maestro, benvenuto, come sta? Bene, bene, bene. Iniziamo il nostro viaggio nel gusto attraverso questo nuovo intento, quello di portare il benessere a tavola con la pizza. Da dove nasce questa volontà di connubio tra gusto e salute? Perché a parte che oggi, secondo me, somministrare un cibo è un atto di responsabilità, ma io ho un passato dove sono stato un ex docente di attività motorie e quindi, voglio dire, ho fatto molto sport e quindi ho sempre insegnato che un risultato agonistico sportivo può arrivare anche con, giustamente, una sana alimentazione. Poi ho fatto il percorso da tre generazioni con mio nonno e mio padre e quindi ho fatto sempre, ho seguito sempre l'attività di famiglia e nel 2012, quando apro Pepe in Grani, l'idea mia è di mettere il mio territorio sulla mia pizza ma soprattutto lavorare con concetti di cucina applicata alla pizzeria. Infatti ho scomposto un po' quella figura del pizzaiolo, dove oggi nella mia pizzeria non c'è solo Franco Pepe o non c'è chi mi sostituisce, ma c'è un team, un team che è formato da pizzaioli ma anche di persone che lavorano in cucina per la trasformazione della materia prima, quindi diciamo i cuochi da pizzeria. Perché questo? Perché c'è una grande attenzione a come riportare l'aspetto nutrizionale nel piatto e quella è una cosa importante. Io ci sono riuscito perché oggi posso dire che dopo un percorso di confronto, tra l'altro ho creato anche un team all'interno del gruppo di Pepe in Grani, dove ho inserito la parte scientifica, perché oggi il pizzaiolo è un artigiano e non è che può garantire il sano, il pizzaiolo può fare una pizza buona o non buona. Io ho cercato di inserire delle figure come agronomi, come c'è una biologa nutrizionista, l'attoressa Michelina Petrazzoli, che mi segue e quindi mi confronto con la mia creatività. La parte scientifica interagisce con la creatività. E soprattutto l'idea è nata nel 2017, quando lì a Pioppi, dove è vissuto Ansel Kiss, in questo bellissimo museo della dieta mediterranea, mi hanno dato questo riconoscimento di ambasciatore della dieta mediterranea. E allora mi sono chiesto, ma la pizza è stata considerata sempre uno strappo alla regola e oggi mi danno questo riconoscimento, lo devo applicare nel modo giusto. E quindi abbiamo continuato a lavorare su le linee guide dettate dalla dieta mediterranea, l'equilibrio di proteine, carboidrate e lipidi, che molti dicono che ci nutriamo attraverso la dieta mediterranea, ma se non c'è un giusto equilibrio, uno non ha una sana alimentazione. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca, abbiamo estrapolato, questo è il piatto che ho ideato, c'è una pizza con riduzione di carboidrati, perché abbiamo visto che c'è un eccesso di carboidrati. Ho fatto anche una lezione all'università a Napoli, dove ho dimostrato che in 30 anni il panetto della pizza è cresciuto tantissimo. Diciamo 30 anni fa era 190-200 grammi, oggi si parla di 300 grammi di pasto, ma 300 grammi di carboidrati è difficilissimo equilibrarli con le proteine lipidi. Ecco, ben 7 le ricette proposte che rispondono ed incarnano a tutti questi principi di sana alimentazione promossi dalla fondazione. Nel suo menù ci sono tante tipologie di pizza, in cui c'è quella che è denominata memento, che possiamo anche vedere in foto. Quali ingredienti ci sono che la rendono così speciale? Ma lì, guarda, c'è una crema di cipolla di alife, questa cipolla dolce che ho riportata sulla pizza, dove io l'ho trasformata in una crema, e poi ci sono la parte proteica e anche dalla crema di ceci delle colline caiatine. E quindi voglio dire, i ceci, oggi c'è un apporto nutrizionale importante, sono coltivati in zona e poi ci sono delle erbe spontanee che vengono messe per la freschezza e l'acquisizione delle fibre, ma dopo cottura, ma in cottura. Perché una delle cose che abbiamo visto attraverso la sperimentazione è che l'acquisizione delle fibre che ci deve essere per seguire i criteri della dieta mediterranea va fatta soprattutto per il prodotto pizza dopo cottura. Perché noi abbiamo fatto uno studio dove abbiamo visto che la pizza che cuoce in un forno a 400 gradi in 60-90 secondi, quando esce dal forno a una temperatura di 100-110 gradi, se tu metti in quel momento le fibre, quindi pure una rucola sulla pizza, avviene uno shock termico che può abbassare il valore nutrizionale del 30-35%. E quindi perciò nel piatto a volte consigliamo di mangiare le fibre come extra piatto. E poi abbiamo creato questo dressing bellissimo l'idea perché il dressing a che cosa serve? Serve a indingere il cornicione. Perché? Perché dallo studio fatto abbiamo evidenziato che il cornicione di una pizza rappresenta il 60-70% del peso della pizza, del panetto della pizza. E' tanto, sono tanti carboidrati che molti mangiano in modo assoluto. Quindi in realtà mangiando carboidrati assoluti c'è l'innalzamento dell'indice glicemico ed è sbagliato. Noi abbiamo creato questo dressing che è saporitissimo, fatto con semi, oli, aceti, che va a indingere il pezzetto di cornicione all'interno del dressing e quando lo vai a gustare va a riequilibrare l'apporto nutrizionale. Tante pizze che abbiamo visto anche in grafica. Qual è stata la più difficile da ideare e quale è quella da realizzare? Allora, volevo solo chiudere dicendo che il bollino AIRC è una cosa importantissima perché è il primo confronto scientifico e che tra le tante università che ci siamo confrontati AIRC ci ha provato il menù e ci ha dato il bollino AIRC che si occupa di ricerca sul cancro e soprattutto di diffondere soprattutto dei messaggi importanti sulla prevenzione, cioè sull'alimentazione che è importante. e quindi oggi avere un bollino AIRC su un menù è la parte scientifica che certifica che quel prodotto è sano, non è il pizzaiolo che è un artigiano che dice la pizza, non è solo buona ma sana e quindi questa è una cosa importante. La pizza più difficile che ho creato è la più facile, diciamo, è la pizza che mi ha portato fortuna, diciamo che è la margherita sbagliata. Perché? Perché oggi è difficile, è difficile trasferire un messaggio attraverso il gusto con la semplicità. Oggi possiamo mettere di tutto sulla pizza, ma trasferire un messaggio con la semplicità è difficile. Perché io avevo questo pomodoro, è il pomodoro riccio, un pomodoro che ci arriva dall'Ottocento, tramandata da generazione in generazione, ci siamo accorti attraverso l'azienda che quando è stato portato qui all'università e, diciamo, è stato visionato e analizzato, era ricchissimo di polifenoli. Quindi come portarla al palato delle persone? A me mi serviva una pizza semplice, non era facile trovare una pizza semplice perché per non mettere più gusti e portare quel sapore del pomodoro al palato. E quindi ho toccato la margherita, che per me è stato, diciamo, un qualcosa di non facile, perché toccare la margherita è la pizza che ci rappresenta, sia la nobretà in Italia che nel mondo. Quindi ho scomposto la margherita, quindi entro nel forno solo con la mozzarella e dopo cottura metto una riduzione a freddo di questo pomodoro riccio, quindi queste striscette di pomodoro e poi una riduzione di foglioni di basilico e ghiaccio. Solo in quel modo, slegando e portando con diversi tipi di temperature al palato, al cliente, quella pizza, quei sapori, io riporto al palato del cliente il sapore di un pomodoro antico. Ecco, la concezione della sua cucina non tradisce mai la tradizione. Non smette di perseguire però anche l'innovazione rispetto all'identità. Questo è il vero ingrediente segreto per restare fedeli a se stessi, al suo pubblico? Certo, l'identità, allora io lo dico pure a tanti giovani pizzaioli che arrivano da me e vogliono fare un percorso. L'ho detto pure a mio figlio, che lui è bravissimo nel creare e ognuno di noi si deve creare la propria identità. Io dopo ho fatto il percorso con mio padre, ho aperto Pepingrani e ho acquisito i saperi da mio padre, ma ho lavorato per la mia pizza, la pizza di Franco Pepe. Un giorno mio figlio dovrà fare la pizza di Stefano Pepe, come ognuno che fa un suo percorso deve creare la propria identità. Perché attraverso l'identità, e l'identità mia sta in quell'impasto, in un blend di farine che ho creato io, che non è in commercio, scelgo io i grani, allora parte da quella farina, da quell'impasto e poi con la mia credibilità racconto i territori. E quindi esalto le materie prime del territorio, che possono essere locali dell'Alto Casertano o Campani. Lei incarna una vera e propria filosofia di artigiano della pizza 2.0, anzi possiamo dire anche 3.0 per quanto è stato visionario. Oggi secondo lei qual è la direzione a cui guardare? La direzione è questa. Io spero che il menù funzionale non sia solo di Franco Pepe, perché un giorno nelle pizzerie ci siano i menù della pizza mediterranea, cioè la gente deve sapere che cosa sta mangiando, quanto sta mangiando, perché oggi veramente anche attraverso la somministrazione di un prodotto pizza, che era considerato un prodotto così popolare, bisogna dare un pasto completo. Quando si parla dice mi mangio una pizza, un pasto completo, però devi vedere che tipo di pomodoro, come è stato trasformato, come è stata creata quella pizza. Oggi sono farine di 50-60 euro a quintale, ma ci sono farine di 500 euro a quintale, quindi voglio dire capire con che ingredienti tu vai a portare nel piatto quei sapori. Il mondo della pizza è sempre più pieno di artigiani. Secondo lei c'è ancora spazio per l'innovazione? Certo, però passa attraverso i saperi, cioè noi oggi dobbiamo dire qua, che oggi tutti vogliono aprire le pizzerie, però non ci sono i pizzaioli, perché noi dobbiamo denunciare questa cosa, l'ho fatta anche con la mia associazione, gli ambasciatori del gusto, che dialogo con l'istituzione, con i ministri, è un peccato che negli alberghiere ci sia il percorso di accoglienza, cucina, sale, non ci sia quella di pizzeria, cioè noi abbiamo, se noi parliamo di funzionale, dobbiamo acquisire dei saperi, non è più la ricetta magico e pizzeolo di 30-40 anni fa, che faceva le cose e non sapeva nemmeno perché le faceva e che cosa stava facendo. Oggi le persone hanno bisogno di capire e soprattutto ci vogliono le persone qualificate. Per qualificare le persone io penso che negli istituti istituzionali e non, diciamo, tra associazioni private dove c'è un costo anche per le famiglie, bisogna fare formazione e quindi facendo formazione ci sarà innovazione. Come possiamo ancora una volta trasformare questo alimento così identitario però senza snaturarlo? Senza snaturarlo? Io ho fatto l'esempio della margherita sbagliata. Oggi si sta confondendo la pizza con l'alta cucina, diciamo, a volte le pizze le creano gli chef, ma l'alta cucina è una cosa che a volte non può essere applicata alla pizza. La pizza deve rimanere sempre un cibo popolare e semplice. Quindi, diciamo, se noi la margherita sbagliate è una grande idea innovativa, ma parliamo di semplicità. Se noi rimaniamo nella semplicità e nell'identità della pizza, che cosa rappresenta, allora ci sarà la sua evoluzione e il suo futuro. Abbiamo parlato del passato e del presente, ma quali saranno i prossimi impegni per Franco Pepe, Pepe Ingrani, al di là di questo progetto che abbiamo raccontato insieme oggi? Ci sono tanti progetti, però noi ne si chiamano solo alcuni che possono avere un obiettivo sicuro. In realtà oggi l'impegno più grande è che sta arrivando il mondo a cagliazzo. Anche grazie alla puntata di Netflix, abbiamo visto 30 milioni di persone, io avevo giurato di portare il mondo a cagliazzo e così è accaduto. Quindi, voglio dire, 12-13 nazioni diverse al giorno e quindi l'impegno mio è di fare formazione, di accogliere il cliente in un certo modo. Ci sono progetti in evoluzione soprattutto con il menù della pizza funzionale e poi c'è autentica, nella mia pizzeria dove accolgo 400 persone a sera di una capienza di 160 posti, c'è la pizzeria più piccola al mondo, autentica. Lì c'è un confronto diretto, lì non c'è la sala, c'è solo io che creo e i clienti che gustano, c'è solo sommelier. Questi tempi sono piaciuti moltissimo all'alta cucina e infatti perciò dicevi il fatto degli chef e lì c'è un confronto tra me e la creatività dello chef, ma rimane inautentica. Cioè le pizze che creeremo inautentica rimangono solo un'esperienza per una sera, per quegli otto ospiti, ma non vanno nel menù di pepingrani. Settimana prossima verrà Moreno Cetroni, il 2 novembre arriverà Anna Ross, Tre Stelle Michelin dalla Slovenia, ma loro vengono spontaneamente e chiedono fra io voglio provare autentica, ma dieci anni fa era impensabile che l'attenzione di uno chef per un pizzaiolo e per me questo è stato bellissimo. A maggio ho portato Alberto Adrià da Barcellona a fare la pizze inautentica, per me è stato un obiettivo raggiunto e diciamo alla consapevolezza che il percorso è stato fatto. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi a mattina live. Ringraziamo Franco Pepe, artigiano della pizza e titolare di Pepe in Grani. Noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Grazie a tutti.